Cambiamento radicale da marzo nella prenotazione delle mammografie presso la Aslotto di Arezzo. La prenotazione degli esami avverrà infatti per classi di priorità, due livelli di priorità individuati e valevoli per le prestazioni di mammografia e per le ecografie senologiche. Saranno brevi, cioè garantiti entro 10 giorni in caso di urgenza o evidenze cliniche. A titolo d'esempio rientrano in questa classe le evidenze cliniche di neoplasie, sospette mastiti, perdita ematica del capezzo, addensamenti palpabili e via dicendo. Le mammografie saranno invece programmabili in tutte le altre richieste non supportate da evidenze e non ricomprese appunto nella precedente casistica e che quindi sono programmabili senza vincoli temporali. Per le ecografie senologiche i criteri indicati sono riferiti a pazienti con meno di 40 anni e i tempi di attesa sono mediamente sotto i 30 giorni. Una volta ottenuta la prescrizione le pazienti devono ricarsi al cup per la prenotazione. Ecco e mammografie vengono effettuate nei presidi ospedalieri di Arezzo, Bibbiena e Valdarno. Naturalmente, si legge in una nota dell'ASL, viene garantita la continuità degli screening oncologici gratuiti e ripetuti a distanza di due anni per le donne comprese nella fascia di età più a rischio, quella tra 50 e 69 anni. Annualmente l'ASL effettua circa 16.000 mammografie attraverso l'attività di screening oncologici a cui vanno aggiunte altre 9.000 mammografie cliniche effettuate ambulatorialmente, oltre 10.000 le ecografie al seno effettuate. Un'attività che fino ad oggi ha portato all'individuazione precoce di circa 300 tumori della mammella annui, di cui un terzo derivante dagli screening e il restante dalle mammografie cliniche. A questo proposito va ricordato che esiste un percorso specifico e dedicato per queste pazienti con una totale presa in carico da parte dell'azienda sanitaria. Il dottor Giovanni Angiolucci, responsabile della sezione di diagnostica senologica del San Donato, spiega anche come si sia potuto verificare il caso della signora 49enne di Sansepolcro che ha ottenuto una prenotazione di una mammografia a 10 mesi di distanza. Un tempo apparentemente lungo, ma che va letto, dice Angiolucci, in rapporto alle evidenze cliniche riscontrate dal medico curante. Se il medico che ha prescritto la mammografia avesse avuto la percezione di un ipotetico rischio, avrebbe segnalato il caso alla sezione di senologia dell'ospedale e la mammografia sarebbe stata eseguita nell'arco di pochi giorni.